Alla palamostra di Udine oggi si è tenuta la prima giornata nazionale del testamento biologico, una iniziativa promossa dalle associazioni che si battono per la libertà di scelta sulla propria vita e sul proprio corpo. Organizzata dal coordinamento laico nazionale ha lanciato lo slogan programmatico sulla mia vita scelgo io. Maurizio Mervar. Udine è testimone di una giornata storica per il movimento italiano dei diritti civili. Le oltre 50 associazioni che compongono il coordinamento laico nazionale hanno scelto la città di Eluana per lanciare il loro messaggio unitario di libertà e rispetto per la persona. Aprendosi con lo struggente film di Alejandro Amenabar, Mare dentro, la prima giornata nazionale del testamento biologico ha visto una totale convergenza su quello che è il manifesto programmatico del movimento, la carta di Udine. In essa si denuncia il tentativo di limitare la libertà personale attraverso il decreto legge Calabro, attualmente in discussione parlamentare e si riafferma l'autonomia di scelta nel campo dei trattamenti sanitari, dalla procreazione alla libertà di cura, ribadendo la sovranità della persona sulle scelte di fine vita. Non c'è un vero, giusto e sbagliato. Per trovare la soluzione di questo problema del testamento biologico bisogna veramente essere calati nella situazione e comprendere anche le ragioni più profonde dell'individuo. E proprio Udine su questo tema è stata la prima città del Friuli Venezia Giulia a stipulare una convenzione con l'ordine dei notai che rende l'iscrizione al registro del testamento biologico completamente gratuita. C'è un deficit di laicità nel nostro ordinamento, laicità che non significa laicismo ma significa rispettare le idee e le scelte di autodeterminazione di tutti perché procreare, vivere e morire sono dei diritti, non sono e non potranno mai essere degli obblighi. Le libertà negate sono molteplici. Vediamo per esempio la libertà alla procreazione assistita, l'RU486 e tantissime altre libertà in cui noi ci impegneremo per il futuro a dar battaglia.